L'Istituto Nazionale di Statistica si è espresso in merito alle vendite. A settembre 2022 infatti si stima un aumento congiunturale delle vendite al dettaglio pari al più 0,5%. Crescono in valore anche le vendite dei beni alimentari, più 0,8%, mentre i beni non alimentari hanno subito un aumento sia nel valore sia nel volume, rispettivamente più 0,4% e più 0,1%. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente si registra un aumento in valore del più 4,1% delle vendite al dettaglio, del più 0,6-8% delle vendite dei beni alimentari, del più 6,8% delle vendite dei beni alimentari e del più 2,1% dei beni non alimentari.